Promossa a pieni voti anche la nona edizione della Corri Verbania, svoltasi domenica mattina a Pallanza ed organizzata dall'Avis Marathon Verbania. Ben 204 gli atleti iscritti, in rappresentanza di 12 società, provenienti oltre che dalla nostra provincia, da Novara e dal Torinese. Tanto anche il pubblico, che ha tifato sul percorso di mille metri, da ripetere n volte a seconda della categoria. I più piccoli in gara, dai 5 ai 10 anni, erano gli esordienti, poi ragazzi, cadetti ed allievi. La prova era valida per il circuito regionale Corrigio e per il campionato provinciale. A farla da padrona, con quattro affermazioni, la GAV di Verbania, in particolare la società del presidente Tiziano Lamberti, ha monopolizzato il podio nella categoria cadette, con Jenny Aquino che ha prevalso sulle compagne Francesca Carnevale e Veronica Tasso. Il secondo successo della GAV, con Lorenzo Caretti, tra gli allievi, ha preceduto Davide Moglia ed Adam Giulio Lucchessa del Genzianella. Primo posto anche con Davide Rosso, tra i ragazzi. Dietro di lui, Riccardo Oliva del Gravellona e il compagno Tommaso Cangialosi. Tra le ragazze ha trionfato Margherita Fasana, prima davanti a Giuditta Bonardi e Corinna Vanni della Vigezzo. Stefano Zanini del Rivarolo ha messo in fila tutti i tre cadetti, a completare il podio Cristiano ed Alessandro Inglima della GAV. Tra gli esordienti, dove si correva a scopo promozionale, hanno vinto Silvia Signini dell'area Libera Coop Borgomanero, Anita Bonardi, Alessandro Bartoli, Valentino Zanoli, Andrea Fontana e Rita Zanetti della Caddese.